Ci aspettiamo una partita comunque non facile, siccome Tortona è una buona squadra, una buonissima squadra come si è dimostrata l'anno scorso e quest'anno ha avuto già partite difficili come anche noi e ha voglia di fare bene, quindi sarà una partita complicata ma diciamo che tornare a giocare avanti il nostro pubblico di casa sicuramente sarà per noi una marcia in più e saremo sicuramente più motivati per riscattarci dall'ultima partita. Oltre ad essere esteticamente molto bella, c'è un bellissimo messaggio che andiamo a sostenere una causa e associazioni che combattono per una causa molto importante e quindi è una responsabilità, è una cosa molto bella poter aiutare nel nostro piccolo.